mettiamo in moto ok tre metti in moto due metti in moto ciao marty sentite sì 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 mi sento a mettere in moto avvio senti che per qui c'è il sound io sono in mezzo, io a destra e a sinistra o a spazio? giusto è vero che sei proprio in mezzo tu stai mettendo in moto quindi c'è stesa quante due voci fa voloso ok no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ho dovuto tagliare, ma ho potuto starci la gialla. No, perdevo subito 1100 litri di carburante. Grazie a tutti. 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 marker, vito, fuel select cross tip, QNH abbiamo 1100, appena sopra, eh beh si indicato così in verità sul comando, per standard si, ok 1 pronto, 2 pronto, 3 pronto, il decollo sarà 8 ore 85, via i freni, mediteri a B, dopo il decollo a sinistra, passando 320 via dalla B, 360 frappi su, ok, diamo a 3 secondi, dai io vado a sinistra, io sono a sinistra sulla pista, ok, rimarrò, in coppia e Davide staccato a 3 secondi, come volete, come vuoi, se riesce andiamo in coppia e Davide è dietro, ok, va bene, io stacquo a 3 secondi, va bene, allora, proprio motore, 8,5, 2 freni, 3, 2, 1, andiamo, E' l'inizio lì? No Va bene Va bene 180 E' l'inizio su Ok, un buon zarrello E' l'inizio E' l'inizio 3.20 via della B 2 litri Ci riveliamo Ci riveliamo 3.60 3.60 Flaps su Ora Tornando su Ok, potremmo andare a vedere chi rientra No, aspetta, si è sparito Ecco di qua Sono dentro Ok, sono a sinistra E' sparito un altro Ci siamo Ok, 3 dentro Ok, 2 dentro Ok, 2 dentro Ok, 1 lo vedo E' l'altro pure Ok, 3.60 Mamma mia Mio All'account Ha legato anche a voi Non è davvero No, ho visto spiatico Prima quando sei entrato E' sempre riappa Sono sempre lì Adesso non ti vedo Penso che sia il più possibile Sto arrivando sto arrivando in fronte guarda che c'è poco, gira 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 bene 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 vediamo film sotto ok mi attrizzo guarda ah che laga ancora eh ti vedo sparire e riapparire eh infatti è un po' arrugginito niente ho ancora lagato ancora niente ancora mi vedo andare su e giù ma va ancora niente mi saltate continuamente niente da fare io sono dentro a destra e vedo che perfetto e lo vedo lampeggiare quando arrivo eh anch'io vedo andare avanti e indietro avanti e indietro continuamente invece andrea ma che scatti finì provo avvicinarmi non è preso se eh si eh si è è un brindis qua l'acqua davide ma ti vedo scattare avanti eh raga io vedo anche voi così troppo mi vedo scattare continuamente sempre avanti e indietro sempre sull'az c'è il giornato con tutto si si fa giornato driver tutto tutta giornata c'è anche le strane da netflix cosa no no sono a casa da solo guarda proprio la serata migliore non c'è nessuno che usa niente a casa mia e allora è un po' arrugginito dai ma porca devo metterci un po' d'olio nel router si devo mettere l'olio nel router aspetta se mi vieni sotto esatto prima accendi una spia poi poi aggiungo l'olio eh si la patina si adesso davide almeno adesso lo meglio adesso lo meglio adesso si adesso si adesso si no io lo vedo sempre ah ok lo vedo cosa fare cosa fare adesso si vedi si dopo torni lì però sparisce poi arriva e appare l'aereo sempre lì adesso ogni tanto si adesso io ho un bel po' che mi vedo perfettamente io ogni tanto vedo lì sparisce l'aereo e appare però lì sempre dove sei è un problema di commissione allora però adesso è buono è un problema di commissione allora sembri facile eh beh certamente si si andiamo su andiamo alle 5 ora ci vediamo un po' a destra via via ma che bella la città qua sotto guarda si bellissimo che l'aeroporto rendeva la città di via 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 Tenevo su Sinistra via Ok, comando al centro Inverto Acceleriamo Attorno alle 5 ce l'abbiamo Pronti facciamo un gruppo Ok Vado bene subito i 4 giro Ok Ok vado via Tiro 4G Eccolo Tengo Tengo così Tio Ora Tengo Tengo Rescio Inizio a ridurro 8-8 Ancora Andiamo giù 8-7 Tengo Tengo così Rilascio piano L'entramotore 9-2 Bello Fotte Un po' mangiaggente Divertato Nesta via Abbiamo ancora Tengo ancora i flap di manovra No? Sì Sì Tengorei Tengo Mani al centro Ora, a un 5 Pronti a salire? Frizz Fermo, fermo, fermo Eccola, sono dietro Ok, metto 9.2 Sto sfilando, ok, davanti Eccolo, si Sto andrando 9.2, intendo Mostro All'entro, anch'io Perché è 9.5 Vedete che ha caricato la membra Qui c'è un po' di schifezza Un po' di schifezza Sì Un po' di ruota, va Ok, a gente è terciano qua, ora Pronti a salire? Sì Andiamo, via Lo cediamo a destra Eh? Sì Pronti? Andiamo ora via a destra Piano Ancenderò Ancenderò ancora Lo scarico un po' fuori Lo scarico un po' Andiamo Andiamo giù Oh, ragazzi Ho perso completamente Andiamo al viaggio dentro Mamma mia Pessimo Ho perso un po' Chiarci Rientro, dai Rientro Rifallo un po' che è andato malissimo Andato malissimo Un po' 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 Pronti? Sì Un po' Andiamo su A 30 gradi Via Sempre a destra Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' ok adesso ci siamo, a posto si si si, cazzo mi devo aver preso completamente la mano scendiamo un po' 9.5 facciamo un looping così riusciamo a tenere le posizioni strette 4G subito, tengo, salzo ok 480 iniziamo a salire via, tiro ok, tiro, 4G, eccoli qua, tiro, 4G ci sono tengo guardi la nistra ora giro ha caldato completamente miscia, riducco 9.8 ora andiamo giù ha cannata la salita, me l'ho ripreso ma ha cannata completamente la salita va bene, non c'è problema ok, lascio piano siamo con 1,2 in alto dentro motore 9.3 flap su ora non c'è dentro, non ripartiamo ok ok questa tram dentro ancora sto leggermente a destra andiamo verso gli est 3 ok 3 dentro ci siamo pronti ma andiamo al centro scendiamo metrizzo ora pronti 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 ok andiamo ancora vado su tiro 4G qui subito eccoli tengo tengo così 1 flap t 1 chiudo leggermente siamo al top rovescio riduco ora 9.8 andiamo giù bene 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 bello bello questo 9.2 ora flap su ora e andiamo a stare a via canna un po' l'entrata la salita mi sono perso l'asse mi sono messo sotto il tempo poi ero recuperato però riesco ancora a starti a fianco un po' è un po' la mano eh si si hai voglia basta un attimo a prendere la mano no si anche di ne anche lì mi è mi è fatti 50 gli ultimi non star lì ma credo io credo anche che se io ti continuo vedere ogni tanto sparire anche durante il loop se hai anche una rete che magari perde il guadagno ogni tanto ciavone no io no io mi vedo fluid io mi ho visto il fluid adesso in questo tipo io ti vedo sparire se è sparita io non posso sparire io no anche adesso adesso sparisci le pari invece Andrea non hai mai sparito ti vedo fluid cioè io vedo che invece intanto tu sparisci le pari rimani niente si 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 anche adesso tic tac tic tac no vedrò perfettamente adesso ma non neanche lega adesso credo di me eh si eh può darsi che questa cosa qui magari ti faccia avere qualche eh si basta c'è ah io cambiando un po' la risoluzione come avevi detto Andrea è diventato tutto fra virgolette più facile perché ha un pelo più fluido quindi ha più più mangio io l'ho visto subito questa roba ok quando siamo pronti ne facciamo ok 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 entra con 9.5 allora giurluso sennò questo sitaggio è super fluido si si è veramente fluido ma avete cambiato qualcosa? si piccoli ritocchi piccoli ritocchi piccoli ritocchi con l'XR tool ah ok qui pronti? o pronto? finita Davide? si vai ok il 4G subito al piano e poi il 4G via andiamo tiro su piano ok tiro 4G subito tiro tengo pronti di fra ora ovviamente il 4G li tiene solamente nella fase iniziale poi scarica chiaro top rovescio 9.8 ora scusa 8.8 adesso sono riuscito a stare ticino ragazzi bellissimo ecco adesso sono riuscito a stare ticino così ok ok ti prende sempre un po' la mano ok sempre difficoltando la salida però ti ho ripreso meglio adesso sono riuscito a stare ticino e quando tiri su tanti c'è l'inizio che ti perde tutto dietro a sinistra scendiamo un po' ma magari secondo me andiamo a girare un po' la destra adesso sul piano ok 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 4G C'è il metrizzo, pronti, cosa fai? Il metrizzo, il monte verso, ah come fai un altro? Uno a destra, ah ok, ok aspetta che arrivo, ok ci sono, quando siamo nella fase quasi di rovescio lo scarico in maniera di adattare, ok, siamo pronti, andiamo su, via? Ok, pronti, iniziamo ad accendere a destra, via, piano, accendero, accendero ancora, scarico adesso, ok andiamo giù, adesso, inizio a richiamare, niente, non ce l'ho fatta, lontanissimo, rientra, lo facciamo sotto G stavolta, negativo in media, si, provo un po', così è un po' difficile, quando scarichi? Eh, se lo scarichi uguale, esatto, però un po' attirando, attento, si, 9,5, vai, sicuramente stai dentro, Dennis, pronto? Prontissimo, ok, andiamo su, sempre 30 gradi, via, andiamo, e andiamo, via, destra, piano, accendero, ok, continuo così, ancora, rilascio piano, eh sì, è così molto più facile, mangio a centro, clicchiamo, ok, che critica, sì, è più facile, perché rimani sempre, eh sì, rimango continuando costante, però perdi molta quota, così, eh sì, da basta che lo fai più veloce? Possiamo provare più veloce, ma probabilmente ci cambiamo, prova a farlo, provo a farlo più veloce, sì, vedete un attimino davanti l'usa c'è, perché c'è un po' di montagna, andiamo, sì, andiamo, l'ultima sinistra, andiamo, andiamo, l'ultima sinistra, andiamo, andiamo, per sicura pianura, che c'è, ore 11, andiamo, andiamo a vedere, siamo vicini a, grazianise, Ok, mi addrizzo Tornano 5 ora Se lo facciamo con il T0 è più facile sicuramente Prova Intanto lo facciamo liscio e poi ne proviamo con il T0 Ok, quindi 4.50, pronta, andiamo sub via Sempre a destra Inizio girando via a destra Accedo alla velocità Accedo alla rotazione Accederò ancora Inizio a rilasciare piano Ok, sono stato lento, bello T0, è bello Come anche accendo? Bello si Bufati nella colonna Andiamo su T0 Ok Iniziamo un po' il motore Iniziamo la velocità Iniziamo la velocità Iniziamo 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 T Hart 3 Hanno 5 Moso giù Freezi Freezi Sì, arrivo, arrivo. E' frizzato solo. Eccolo. Ci sono davanti. Dove sei? Ah sì, ti vedo, ti vedo. Quando volete chiudere? Ok, sto pronti. Pronti? No, pregati. Un attimo. Ok. Un attimo ancora. Ok, due, pronto. Nove, cinque. Sumoso, ora. Siamo leggermente più veloci perché abbiamo meno velocità. Sì. Pronti a girarlo? Via, ora. Destra. Accederò la rotazione. Accederò ancora. Accederò ancora la rotazione. Tempo si ferma. Sì. Andiamo giù. Inizio a rilasciare. Ok. Mosa giù. Mondi al centro. Vai dai. Non è male. Buona. Senta. Troppo buona. Cap su, ora. Alle nostre ore. Tre. Abbiamo. Grazie a viso. E alle nostre ore. Senta. E alle nostre ore. Napoli. Un po' di chino. Andiamo a destra. Via. 5.000 libri. Ci arrondiamo fino all'ossetto. 5.000. 5.000. Ma, già. Facciamo il massimo passaggio su l'Irm. Andiamo giù. andiamo a vedere grassa, riduco 8-8, scendiamo Ups, freeze, vi ribecco Lug? Sì, un leggero freeze mio, sono rimasto indietro 30 metri ma sono dentro di nuovo, posto Bravi di silenzio, guarda a sinistra Ti vedo, sono seduto davanti Ecco, grazie Adesso ho laccato anche a me, ah no, ti ho ripreso, no, ho laccato, no, ecco di qua Ecco di qua Sta caricando qualcosa Eh, l'aeroporto Ok Inchiudete il monopolente, ecco, grassa, ci sono due sopra Sì, sì Che è due a posto Sì, sta caricando probabilmente Napoli Sì, sì Uh, sì, d'accordo Motore 9-5, ora Ci piantiamo un bel loop qua, poi rompiamo a sinistra e solo sotto Vai, dai, dai 9-7, accendiamo 480, andiamo subito in tiro 2 più 2 più 2 più 4 giù di tempo Pronti per fare 6-8 Ora microfono 6-4 8, 8, 8 ora Tango 2 26 Pronti con il motore? Sì 9.3 Ora continuiamo a salire Sinistra Pronti con il flap Giù Ora 9.3 Sfogliamo Sfogliamo Ormai è piaciuto Piacchiamo Sfogliamo 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 Torniglio Sfogliamo 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 4.500 lb 4.500 lb 4.500 lb 4.500 lb Sì, sul looping ho dovuto dare un po' spesso per un po' in latino. Sì. Se andiamo a queste colline qua, ci mettiamo sulla sinistra. Bene. Adesso poi continuiamo ad un'apertura. Quando avalde ci abbiamo a ore 11. Ci portiamo a Latina. Tra un poco. Adesso a Frosinone. Fiorentino e Frosinone. Sì. Ma che bello Davide, sta lì sotto, tranquillo. Alla è stupendo. Adesso adesso arrivo a 10 km. Adesso non è arrivato bene. 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 Adesso sono giusto. Ecco qua. Adesso sono giusto. Ecco qua. E quando sei troppo stretto ti stai in pochia Sì, sì E' difficile stare a fianco Dietro è più facile Quando vede la figura stare a fianco E' più facile E' più difficile Non ci stavano mica stretti stretti Ecco la formazione è la tip sul codice la formazione proprio da manuale Quindi sei abbastanza laterale Guarda, adesso c'ho la tip dove ci dovrebbe essere il trattino del codice Quindi sei abbastanza laterale Che va bene, cioè stare troppo stretti No, no, no Ecco, è giusto Adesso vengo a fare il pelo Adesso vengo a fare il pelo Guarda, vengo a fare il pelo Piano, piano Ecco questo Il motore forse Tocco a sinistra e andiamo su latina Ok Ok Iniziamo a tutta la sinistra via Ok Probabilmente caricherà ci sarà qualcuno anche eh Ehm Ehm Qui abbiamo Roma Per cui Sì Qui tiriamo dentro verso guidonia In modo da passare A est di Roma Ok 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 Sì Ehm 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 Non c'è Ecco vengo Vengo a tua alla destra Oh Vieni a destra Davide? Sì vengo a tua alla destra Ecco qua Ma è che trasforma a sinistra Ti vado bene qui Eccolo qua Sì Ehm Eccolo Eccolo Dovreste avere una bellissima veduta Ehm Infatti Infatti Dicono Il Black Beauty che con nero lucido spara dei riflessi épici Grei Epic Che bello Ehm Ecco c'è una giù in fondo a sinistra Ehm Siamo alberto Sì E' un'immagrazione e ci avversiamo davanti lei abbiamo una tina ma dal sole che riflette sui fiumi sui fiumi anch'io sto guardando quante quanti che ce n'è qua? forte? guarda verso ore 11 si ti rifiola in presso dipendo ah non sei sparito Davide? io ti vedo è sparito a trea adesso ho la tua destra arrivo 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 dritto ci confermo ok tira ecco la sinistra guarda a destra ah no a cazzo se posso come? guarda a destra non ho capito no no tranquillo Davide io ho l'ho attaccato a te molto male allora possiamo anche salire per evitare Roma non saliremo dai staccao dai vai c'è la main gate non floppio ok? ok 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 quando chiamano a più io entro un secondo non saliremo pronti? Pronto Lag, lag, lag Si fermato tutto Sei davanti Sono dietro un sacco Andrea davanti Ma come la vedete questa chiazza a destra Il texture completamente più chiare Io arrivo Vedo delle chiazze chiarissime qua sulla destra Come dici? Della texture molto più chiare Qua sulla destra Ok Dentro, destra Posto Tutto andrando Che brutta texture Ma le vedete anche voi Questi inquadratoni, cioè il colore è completamente diverso Della texture qua sulla vostra destra A destra sono belle Cioè sono diciamo omogene Con il resto Vedo delle aree con verde scuro E delle aree con marroncino Vedo chiaramente l'ombra delle nubi La fotogrammetria La fotogrammetria è disattivata Ti attenzio al commento Eh? Avete la fotogrammetria disattivata voi? Sì No, ma se saranno disattivati da Per quello che hai Cioè io vedo proprio tonalità diverse Vedo, vedo il texture Ma vedo tonalità diverse Capito? Probabilmente Ma probabilmente tu vedi le text su quelle di Fred Anche la voce 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 Con il su Bene dai Ci siamo Ok ci sono Io ci sono Ma tra me in Roma c'è la mia o a destra Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Sì Pronto per la B Ah ok 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 Pronti A B ora Sì Che ferito si riescono a prendere le stesse identiche velocità e le nobili che forza che forza è identica si siamo dentro Italy ok ok non ti ho perso 200 100 superati si mi ha rimesso lì ti vedo ti vedo si mi ha rimesso lì ok qui c'è lo zampino di Rome comunque carica ok 100% aereo trimato a posto a livellato 4.5 di flussometro ok continuiamo ci sei dentro si guarda la sinistra dentro ci siamo bello qua bellissimo vedi l'ombra l'ombra tra dell'aria densamente si guardi a destra si 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 un po' meno di 3000 libri di carburante 30 3000 3000 appena sotto 3000 giusto buono scendiamo a livello a livello adesso lo fa e livello eccoli qua abbiamo un'indicata di 35 e un'indicata di 35 da 60 con militari e 4.4 diffusometro e si fa un po' 4.4 diffusometro si 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 l'aereo volo che è una favola non è male non è non è hai fatto un po' si eh 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 un po' Tarquinia granchisco le mani guardiamo il panorama Tarquinia e vorreste facciusta vi vediamo di mantenere la vuota ok che matrice non sono a tua destra eh, Andrea bell'Italia, linea di front mi ha frizzato, mi ha messo tre vent'a metro indietro, sto rientrando a destra vent'a 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 Anche il contadorale, a posto, ok, andiamo giù, 18.000 A manierato A manierato один A manierato persoon A manierato che vorrei Sì, 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 sì. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!